Grazie ai nuovissimi tool sugli elementi prefabbricati dentro Revit puoi fare elementi prefabbricati altamente definiti e dei disegni esecutivi in pochissimi clic e in maniera del tutto automatica ma utilizzare gli elementi prefabbricati non è così intuitivo come l'autodesk ci vuole far passare quindi in questo video ti voglio spiegare qual è il workflow generale da utilizzare per inserire correttamente gli elementi prefabbricati nel tuo progetto di Revit Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e docente titolare del centro di formazione Adara Architettura insegno a tutti i progettisti come risparmiare tempo ed essere più produttivi attraverso l'apprendimento di competenze altamente richieste nel mondo del lavoro se non lo sai, in questa settimana si sta concludendo infatti oggi è l'ultimissimo giorno per approfittare del mio nuovissimo corso sulle strutture nuovo corso inedito interamente in italiano fatto interamente da me con software in italiano appunto corso specialistico approfondito di Revit sulle strutture già ho avuto modo di presentartelo in qualche video precedente oggi si conclude la settimana di lancio quindi solo per oggi, solo per quest'ultimo giorno il corso sarà disponibile ad un prezzo scontatissimo che è il prezzo di lancio dopodiché dal 24 in poi potrai sicuramente tornare ad acquistare il corso di Revit Strutture ma al prezzo di listino torniamo all'argomento del nostro video qual è il workflow ottimale e come funziona il collocamento e il posizionamento di elementi prefabbricati all'interno di Revit? te lo spiego in questo video tutorial che è tratto direttamente dal mio nuovissimo corso Revit Strutture iniziamo il modulo relativo agli elementi prefabbricati dentro Revit facciamo una premessa questi tool che vedi nella tab prefabbricati non erano disponibili fino alla versione 2020 o meglio, erano disponibili previa installazione di un plugin dedicato dalla versione 2021 in poi questi strumenti sono diventati presenti di default dentro Revit e utilizzabili quindi con qualunque tipo di versione questi strumenti sono quelli inerenti appunto alla creazione di elementi prefabbricati e per quanto ne possa dire l'autodesk secondo me sono tutt'altro che intuitivi quindi in questo primo video di presentazione ti voglio spiegare il workflow generale il flusso di lavoro con gli elementi prefabbricati non è importante quindi che mi segui o comprendi ogni singolo passaggio che io faccio perché poi nelle prossime lezioni andiamo a spiegare nel dettaglio che cosa fa ogni singolo tool e come utilizzarlo quindi segui semplicemente il flusso di lavoro di questo video perché ti voglio fare un cappello generale di presentazione di come funziona la logica degli elementi prefabbricati poi di tutto quello che ti dirò durante il video di presentazione lo trattiamo in maniera molto approfondita nelle lezioni che seguono ogni comando un'impostazione alla volta quindi per il momento non ti preoccupare di capire tutto perché tanto andrò veloce voglio solo presentarti appunto come ragionano gli elementi prefabbricati quindi anzitutto gli elementi prefabbricati su Revit funzionano solamente su muri e pavimenti strutturali già creati e presenti nel progetto quindi lo strumento tool prefabbricati non fa altro che convertire muri strutturali e pavimenti strutturali già presenti nel progetto in elementi prefabbricati questo vuol dire che noi dobbiamo aver già creato all'interno del nostro progetto muri e pavimenti, attenzione, devono essere strutturali quindi in questo caso io ti faccio vedere mi sono già creata un paio di muri e un paio di pavimenti strutturali te li faccio vedere il primo è un pavimento come vedi strutturale quindi ha la spunta su strutturale l'ho creato a partire dal menu struttura e dal muro ed è un muro generico di 20 cm quindi è un muro monostrato il primo pavimento strutturale invece è un pavimento generico da 30 cm anch'esso monostrato sul secondo invece ho fatto delle modifiche ho creato infatti un muro stratificato fatto in questo modo ci sono tre strati all'interno del nucleo ho creato un pacchetto a sandwich costituito da struttura due strati di struttura e uno strato intermedio termico con materiali attribuiti calcestruzzo, aria e calcestruzzo degli spessori non eccessivi e una spunta su questo materiale su un materiale strutturale fai attenzione a questa stratigrafia lo vedremo poi in maniera più dettagliata perché questa tipologia di muro è ottimale per poter fare un muro cavo al cui interno poter andare ad inserire l'armatura quindi ci sono delle caratteristiche specifiche da rispettare affinché questo riesca e in primis è la composizione della stratigrafia ma ti ripeto ne parleremo in maniera molto più dettagliata il pavimento in questione invece è un pavimento da 20 cm di spessore anch'esso monostrato e anche qui lo spessore e la composizione sono fondamentali per la creazione di un pacchetto o meglio un muro prefabbricato alveolare quindi in questo caso l'alveolare riesce su spessori più bassi non sarebbe riuscito su uno spessore più alto così come le dimensioni del pavimento devono essere di un certo tipo a seconda chiaramente delle impostazioni che poi andiamo a mettere quindi presentati i miei elementi strutturali come vedi sono banalissimi ho usato solo un paio di accortezze su questi secondi due ci spostiamo sul tool dei menu prefabbricati tutto parte dal comando dividi che cosa fa questo comando? crea assiemi prefabbricati assiemi quindi crea componenti diciamo assiemi può essere un sinonimo di componenti dentro Revit a partire da muri, strutturali, pavimenti e solai quindi questo tool è la partenza di ogni cosa da qui vengono create e generate a partire da muri e pavimenti strutturali gli elementi prefabbricati vengono creati in maniera sovrapposta ad essi quindi vedremo che nella vista coesisteranno entrambi in base a che cosa vengono create tutte le componenti prefabbricate in base a quello che gli diciamo all'interno della configurazione che è il nostro tool generale di impostazione per la conversione da un muro all'altro allora la prima volta che andiamo a cliccare su dividi Revit fa questa sincronizzazione delle famiglie con il progetto in corso quindi scarica o meglio carica all'interno del progetto tutti i componenti prefabbricati in modo da poterli generare solo la prima sincronizzazione è un po' più lunga quindi come vedi prende qualche secondo prende un minuto insomma quanto tempo prende le successive poi sono più veloci ovviamente devi aver installato Revit correttamente quindi questa sincronizzazione andrà a buon fine nel momento in cui ovviamente Revit è stato installato correttamente come vedi l'interfaccia è cambiata adesso è tutto grigio non c'è nulla di cliccabile perché qua sotto la ribbon bar si sono attivati questi comandi che mi invitano a fare una selezione se voglio selezionare più elementi deve esserci la spunta su Multipli quindi seleziono solo i miei primi due componenti ovviamente non c'è bisogno di tenere il tasto CTRL premuto perché ho già la spunta su Multipli e clicco su Termina quando ho finito a questo punto Revit mi chiede con quale tipologia di pavimento e muro prefabbricato voglio andare a sostituire o meglio a integrare quelli esistenti lascio la soletta piena per il pavimento ho varie opzioni come vedi in questo caso sul secondo poi andrò ad applicare il nucleo cavo così vediamo almeno due delle principali e gli do l'ok lui si fa i suoi conti per il muro in realtà non mi chiede niente ok e mi dà un'informazione cioè che il peso è maggiore in questo caso per quanto riguarda il mio solaio o anche per il muro il peso è maggiore della capacità dei sollevatori quindi bisogna specificare un sollevatore differente o aggiungere manualmente altri sollevatori che cosa mi sta dicendo? che il mio muro e il mio pavimento sono grandi rispetto agli elementi prefabbricati che devono andare a sostenerlo quindi effettivamente forse è un po' grandicello sono 10 metri per 8 e la stessa cosa è un muro è lungo 10 metri per 2 quindi Revit mi dice che i sollevatori che sono impostati di default all'interno della configurazione che noi per ora non abbiamo toccato non sono sufficienti e che vanno integrati io lo ringrazio sentitamente per questo messaggio gli do l'ok in modo che lui possa finire ok e come vedi il mio pavimento e il mio muro strutturale sono stati più che convertiti sono stati duplicati in un elemento prefabbricato composto in appunto delle parti ti faccio vedere la visualizzazione in wireframe eccola qua quindi come puoi vedere questi sono i famosi sollevatori di cui parlava Revit questi ganci qui i due muri sono due componenti prefabbricati connesse tra loro in questo modo quindi sono anche quelli tutti questi componenti sono quelli che si definiscono parti di montaggio e che possono essere verificate da questo tool qui quindi lui questo tool posiziona parti di montaggio aggiuntive in assieme prefabbricati laddove effettivamente c'è una necessità quindi come può essere il nostro caso dove appunto ci sono poche i supporti non sono sufficienti a sostenere il peso dell'elemento che è troppo grande come ti dicevo adesso lo rimettiamo così il nostro elemento qua come vedi mi dà una sovrapposizione perché Revit non ha sostituito il mio pavimento e il mio muro strutturale con un pavimento e un muro prefabbricato ce lo ha appiccicato sopra quindi come vedi qualunque cosa io vado a selezionare mi dà appunto questa sovrapposizione vediamo se si vede andandolo a spegnere eccolo qua infatti si vede il pavimento strutturale che c'è sotto andando a spegnere quello prefabbricato allora come fare per non vedere questa sovrapposizione una volta che ho generato l'elemento nelle proprietà della vista nella visibilità della stratigrafia io posso scegliere se vedere entrambi gli elementi lo strutturale e gli elementi prefabbricati mostrare solo l'originale quindi solo l'elemento strutturale o mostrare la stratigrafia quindi solo l'elemento prefabbricato lascio quindi la sola visibilità della stratigrafia in questo modo non ho questa sovrapposizione fastidiosa in questo modo se vado a nascondere l'elemento come vedi è vuoto quindi questo è un trucchetto riguardante la sola visibilità grafica di questa vista che ti permette di isolare gli elementi che hai creato andiamo a vedere anche questo tool sulle parti di montaggio mi dice che non è stato questo è un tool semplicemente di verifica quindi non fa niente di particolare o meglio se c'è la necessità aggiunge degli elementi ai miei assiemi che sono appunto gli elementi prefabbricati se non ce n'è la necessità mi dice semplicemente che l'operazione è riuscita quindi ha fatto la sua verifica e che semplicemente non è stato aggiunto nessun elemento perché andava bene così adesso andiamo a vedere come creare un'armatura e un muro cavo ok allora in questo caso andiamo a prendere prima di tutto il pavimento ok e andiamo a dirgli prendiamo quindi il comando di dividi selezioniamo il mio pavimento clicchiamo su termina e anziché la soletta piena diciamo che vogliamo il nucleo cavo gli diamo l'ok lui si fa le sue riflessioni e dovrebbe andare ok perfetto a buon fine ti dico già che la cosa determinante è lo spessore del solaio quindi se avevamo un solaio maggiore già testato di 20 cm non ce l'avrebbe fatta a generarmi questa fantastica struttura alveolare ok che di conseguenza non devi andare a fare tu personalmente ma ecco come Revit te la presenta fra parentesi andando a lavorare all'interno delle configurazioni dei parametri della configurazione e tutto quello che vedi è personalizzabile quindi non ci dobbiamo tenere le dimensioni dei pannelli così come sono non ci dobbiamo tenere assolutamente niente ok vediamo invece come armare un muro prefabbricato prima cosa il muro strutturale va convertito in muro prefabbricato quindi va si diciamo vabbè si usiamo convertito anche se di fatto hai visto che non è una conversione ma è una sovrascrizione andiamo sempre a utilizzare il comando dividi per creare il mio assieme prefabbricato a partire dal mio muro quindi clicchiamo su termina potevo farlo anche insieme non fa niente e mi viene il mio super fantastico pacchetto quindi questa volta gli strati che compongono il mio pacchetto struttura area struttura sono perfettamente visualizzabili come vedi sul muro non mi chiede un granché perché parte tutto dalle configurazioni iniziali posso andare a inserire tanto un'armatura quanto un foglio di rete personalizzato ok che appunto può essere personalizzato e impostato io vado ad inserire un'armatura seleziono il mio elemento eccolo qua clicco su termina e lui mi chiede che tipo di armatura voglio generare al suo interno quindi posso scegliere tra armatura a doppio strato a rete e così via come voglio l'armatura al bordo se voglio degli angolari delle barre a u delle l o se non voglio un'armatura sul bordo lo lascio esattamente così com'è come vedi tutto è personalizzabile modificabile ma lo vediamo più avanti gli do l'ok e lui fa i suoi ragionamenti adesso come vedi mi ha inserito l'armatura e si vede già in presenza ecco adesso te lo metto in wireframe così lo puoi vedere meglio voilà ok eccola qui come vedi ci sono tutti i componenti di armatura inseriti con le staffe che tengono il muro prefabbricato insieme i componenti metallici quindi torniamo su linea nascosta e eccolo qui un'altra cosa fantastica che possiamo fare all'interno dei componenti prefabbricati e ahimè solamente all'interno dei componenti prefabbricati sono i disegni esecutivi cioè andando semplicemente a cliccare sui disegni esecutivi tutto chiaramente personalizzabile e preimpostabile dalla configurazione quindi noi adesso abbiamo fatto queste operazioni tenendoci le impostazioni che erano inserite di default dentro la configurazione ma andando a modificare ciò che c'è dentro la configurazione di volta in volta prima di andare a cambiare chiaramente gli elementi possiamo andare a modificare e personalizzare i nostri tool i nostri assiemi prefabbricati quindi magari questa funzione funzionasse su tutti gli elementi purtroppo funziona solo su quelli prefabbricati clicchiamo su disegni esecutivi selezioniamo gli elementi di cui vogliamo andare a facciamo una selezione così via di cui vogliamo andare a creare il disegno esecutivo e ti faccio notare vabbè adesso non posso più aprire il browser di progetto ma comunque ci sono quattro viste in croce nel browser di progetto non c'è nessun abbaco e non c'è nessuna sezione come puoi vedere clicco su termina lui fa le sue riflessioni ci riflette un po' ci vuole un minimo di tempo quindi aspettiamo che lui riflette e lui praticamente cosa sta facendo si sta generando tutte le viste che gli servono per descrivere a livello anche di dettaglio esecutivo gli elementi che gli abbiamo selezionato quindi fisicamente troveremo all'interno del nostro browser di progetto delle viste in più degli abbaci delle sezioni dei cartigli che prima non c'erano infatti come puoi vedere non c'è nulla di tutto questo va bene mi dice che non ha trovato dei tipi di quote vabbè stiamo a vedere ok e che cosa ottengo quindi ottengo il mio muro il mio muro il mio pavimento prefabbricato visto nelle varie angolazioni quindi pianta prospetto sezione vista 3D un abbaco che mi indica quant'è il volume ti faccio notare che adesso abbiamo magicamente degli abbaci abbiamo magicamente dei cartigli che sono stati inseriti abbiamo gli assiemi che sono stati creati abbiamo sezioni non ne abbiamo in questo caso quindi questo per quanto riguarda il solaio quindi tutte le viste che mi ha creato sono disponibili qui mi ha creato una tavola per il mio muro come puoi vedere ovviamente insomma da sistemare un attimo anzi due tavole per il mio muro mi ha creato tre tavole tavola 3 4 e 5 sul solaio come puoi vedere più tutte le viste che servono a descriverlo quindi si è creato da solo senza che io gli dicessi niente il relativo computo l'abbaco delle quantità adesso ce ne torniamo in 3D ok quindi questo è un tool super fantastico che appunto permette di creare in pochi minuti dei disegni esecutivi solo dei nostri elementi prefabbricati quindi ahimè non funziona su tutti i componenti di Revit se noi l'avamo già sbangata ti anticipo anche che la direzione dell'orditura del mio solaio determina il verso dei miei pannelli quindi perché vedi i pannelli divisi in questo verso piuttosto che in quest'altro perché se io metto l'originale il mio pilastro il mio pilastro il mio solaio è stato ordito quindi la direzione dell'orditura è in questo verso quindi in le mie parti dei componenti prefabbricati vengono ordite nello stesso verso della direzione dell'orditura adesso rimettiamo la visualizzazione degli strati e andiamo avanti tutto quello che vedi è personalizzabile all'interno della nostra tool configurazione adesso io ci clicco sopra lui aspetta un attimo ok praticamente poi anche qua lo vedremo insieme questo è il percorso delle famiglie dove lui si è andato a pescare gli elementi prefabbricati quindi è stato possibile tutto questo perché il Revit era stato installato correttamente e gli elementi prefabbricati erano stati scaricati per ogni elemento come vedi per esempio per i muri abbiamo la possibilità di creare di sovrascrivere i nostri muri con il comando dividi in muri pieni o muri a più strati e nel nostro caso andare a decidere in quante parti si devono dividere quindi in che cosa ogni parte si va a convertire ok in quante parti in cosa sono composte le sue parti quindi se io non voglio per esempio dei pannelli così grandi questa è la sede dove andarli a personalizzare l'armatura che è andata al suo interno è modificabile da qui ok quindi l'armatura che io ho inserito qui dentro è venuta in quel modo che hai visto perché qui era impostata in questo modo qui sia per l'armatura sul muro sia per il bordo tutto chiaramente personalizzabile ok il disegno esecutivo è venuto in A3 piuttosto che in A1 perché qui gli era stato detto di farlo così ok tutte le distanze dai le quote e così via quindi possiamo e questo per il muro si ripete queste informazioni si ripetono per tutti i componenti quindi abbiamo per i muri pieni per i muri a più strati che sono le nostre due casistiche come vedi muro pieno e muro a più strati abbiamo per il solaio a soletta piena che è questo le nostre impostazioni così come per il solaio a nucleo cavo ok quindi se io voglio che per esempio la mia segmentazione ovvero la mia divisione in pannelli sia più grande in questo caso non devo andare ad agire qua perché questa è la segmentazione della soletta piena di questo qui devo andare ad agire sulla segmentazione del nucleo cavo infatti come vedi queste sono le dimensioni dei miei pannelli ok mentre di qua ho dei pannelli molto più grandi larghezza minima e massima poi andiamo a vedere di ognuno che cos'è e che cosa significa mi interessa solo che segui il flusso in questo momento così come di ogni categoria di elementi ci sono le specifiche di quell'elemento per il disegno esecutivo quindi perché il nostro disegno esecutivo è venuto le nostre tavole sono venute fatte in un certo modo piuttosto che in un altro per questo motivo perché qui ci sono tutta una serie di impostazioni spero che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia aiutato soprattutto a fare chiarezza su qual è il workflow ottimale per posizionare le strutture all'interno di Revit ti ricordo che il mio corso Revit strutture interamente in italiano e fatto da me con software in italiano è disponibile solo fino a stasera alla mezzanotte ad un prezzo scontatissimo di lancio dopodiché i prezzi salgono e tornano quelli di listino quindi se desideravi investire nella tua formazione di Revit in particolare vuoi padroneggiare l'inserimento delle strutture nel mondo del BIM ma questo è il momento giusto per farlo e direi che siamo arrivati agli sgoccioli pertanto non aspettare oltre e corri ad approfittare subito della nostra super offerta di lancio sul corso di Revit Strutture io ti aspetto dall'altra parte all'interno dell'area riservata ai corsisti ciao